Il giudice sportivo ha rigettato il ricorso presentato dallo Sporting Ponte Cagnano dopo il match del 3 novembre con la Giffonese. La società gialloblu al termine della gara aveva denunciato la presenza di un giocatore in campo nella squadra avversaria non riportato nella distinta consegnata all'inizio della partita alla società. Circostanza ricostruita diversamente dal giudice sportivo che nel dispositivo spiega che il calciatore in questione era presente nella copia della distinta di gara consegnata all'arbitro dalla Giffonese e che per evitare un ritardato inizio della gara lo stesso non si rendeva conto che erroneamente il giocatore non veniva riportato nella copia consegnata allo Sporting Ponte Cagnano. Una versione che ha fatto infuriare la dirigenza gialloblu pronta a ricorrere al presidente della Lega Nazionale di Lettanti. Il 3 novembre si gioca a Giffonese Sporting Ponte Cagnano e che cosa succede? Succede che ad inizio gara, fra l'altro, contrariamente a quanto è stato detto nel dispositivo, inizia con un quarto d'ora di ritardo perché la società controparte non aveva ancora presentato la distinta. Dicevo, ad inizio gara, quando mi viene consegnata la distinta di gara in originale, firmata dall'arbitro, nel riscontrare i calciatori della Giffonese in campo, mi accorgo che il numero 8 non è presente nella distinta. Al termine del primo tempo, passo indietro, al ventesimo del primo tempo, il calciatore in questione viene ammonito per proteste. Al termine del primo tempo mi reco nello spogliatore degli arbitri facendo notare questa discrepanza tra gli uomini in campo e la distinta di gara. L'arbitro resta perplesso, il primo assistente guarda sul suo taccuino e conferma che effettivamente il numero 8 era stato ammonito, ma che sulla distinta, in loro possesso, ripeto, in loro possesso, conforme a quello che mi era stato consegnato, effettivamente il calciatore non era stato trascritto. A quel punto lì mi dice che scriverà tutto nel referto, io vado via tranquillo. Si reca, il direttore di gara, perché l'ho visto, perché gli spogliatori sono adiacenti, si reca nello spogliatore della Giffonese, che cosa si siano detti non lo so. So semplicemente che poi c'è stato un trambusto sotto la tribuna nei confronti di qualche dirigente della Giffonese perché c'erano state queste anomalie indistinte. Trambusti che sono continuati anche dopo la gara. Al termine della gara, nel riconsegnare la distinta, mi veniva fatto capire se c'era la possibilità di aggiungere il nominativo sulla distinta in mio possesso e su quello ufficiale che teneva l'arbitro. Mi sono opposto perché era una cosa che va contro il regolamento, una cosa che non esiste nel modo più assoluto. L'arbitro ha confermato che non c'era, mi ha confermato che non c'era, mi ha consegnato i documenti e siamo andati via. Che cosa sia successo dopo? E vabbè, è facile e immaginabile. In questo momento siamo molto arrabbiati. Io in particolare sono arrabbiato perché dopo tantissimi anni di segretario nelle società direttantistiche, con qualche viaggio, chiamiamolo così, anche nei professionisti, vedere una cosa del genere effettivamente fa male. Fa male perché fa perdere la credibilità nel calcio. Io non credo più a questo punto. Che cosa faremo? Ci sono diverse strade. Molto probabilmente chiederemo un incontro con il Presidente della Riga Nazionale. Adesso non sono in ballo più i tre punti, è in ballo la credibilità. Dobbiamo continuare a fare calcio o non dobbiamo continuare a fare calcio? Ci volete tutelare veramente o non ci volete tutelare? Quindi dicevo, chiederemo molto probabilmente un incontro con il Presidente della Riga Nazionale di Lettanti, manderemo un esposto al Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e al Presidente nazionale degli arbitri. Non escludo di mandare gli atti alla Procura federale. C'è anche un'altra ipotesi. E questo lo valuteremo, se ne è parlato i risiedi in società, lo valuteremo, che qualche persona non tesserata facendo parte della società possa denunciare la term per violazioni in atto di ufficio.